Passano con il solo voto della maggioranza il nuovo regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali e la convenzione che prevede un unico segretario comunale che servirà a Lago Negro e Latronico. Sono questi gli argomenti principali che hanno scaldato il civico consenso tenutosi ieri sera presso il palazzo di città di Lago Negro. Proprio sulle nuove regole che coordineranno la vendita degli immobili comunali, la minoranza ha annunciato battaglia. Impugneremo il regolamento al TAR, ha detto il capogruppo di minoranza di Perlago Negro, Maria Di Lascio. La maggioranza ieri ha approvato qualcosa di poco chiaro. L'aggiunta comunale infatti avrà la possibilità di decidere il valore dell'immobile, qualora la prima seduta da assandasse deserta. Insomma, conclude Di Lascio, l'aggiunta da organo politico diventa tecnico. Differente invece la posizione della maggioranza guidata da Mitidieri, che giustifica il regolamento con il bisogno impellente dell'ente di fare cassa e far fronte al pagamento di alcuni debiti irrimandabili. Bagare anche sulla decisione della maggioranza di condividere con Latronico il segretario comunale. Il nuovo funzionario sarà a disposizione dell'ente lunedì, martedì, mercoledì mattina e giovedì pomeriggio. Ma anche in questo caso la decisione non è piaciuta all'opposizione, che ha giudicato scellerato quanto approvato dalla maggioranza guidata dal primo cittadino Domenico Mitidieri. Il comune di Lago Negra, detto il consigliere di minoranza Di Lascio, soffrirà del segretario solo per il 60% del suo tempo lavorativo, ma graverà sulle casse comunali per il 75% del suo costo complessivo. Anche qui chiede l'opposizione dove è la convenienza. Tutti concordi invece sul regolamento del funzionamento delle commissioni consigliari permanenti. Il punto è passato all'unanimità.